Professor Nanni Piacentino che è stato autore di una ricerca finanziata anche dall'Unione Europea. Su mia iniziativa si è coagulato un gruppo di ricerca di livello nazionale che comprende l'Università di Pisa, la Biosin che è una struttura ad alta tecnologia, dei colleghi di Milano e anche il consorzio industriale di Termoli. Lo scopo di questa ricerca iniziale è stata quella di trovare uno sbocco a uno degli inquietanti più inquietanti che si presentano sul territorio, vale a dire i fanghi che derivano dai depuratori fognari. Questi fanghi normalmente vengono destinati a discarica ma nelle discariche creano molti problemi perché essendo semifluidi percolano e poi vengono presi dal ricircolo della discarica e quindi praticamente partecipano a un circolo perenne. In compenso questi fanghi oltre ad avere vari tipi di inquinanti hanno all'interno moltissimo carbonio di origine atmosferica. Noi abbiamo messo appunto il sistema di gasificazione, abbiamo fatto una domanda di finanziamento per un impianto preindustriale, vale a dire un impianto che sia sostanzialmente industriale ma su piccola scala, che stiamo per costruire nell'anno che si apre adesso presso il consorzio di Termoli. La cosa importante è che è stato finanziato questo progetto dall'Unione Europea, in sostanza lei vorrebbe continuare ad occuparsene? No, io me ne occuperò senza dubbio e spero, sicuramente il progetto andrà avanti e sarà realizzato, io spero ovviamente anche personalmente di poter continuare a contribuire così come ho fatto finora che sono stato l'ideatore dell'iniziativa. Occuparsi di ambiente è una cosa importantissima, eccitante ma anche delicata perché l'ambiente è un sistema complesso, agire in un sistema complesso richiede complesse procedure ed estrema attenzione perché come un sistema complesso non è lineare, facendo una piccola mossa non si ottengono piccoli risultati, una piccola mossa può preludere a risultati enormi nel bene ma anche, disgraziatamente, nel male. Quindi noi ci auguriamo e siamo persuasi di essere capaci di agire nel bene, con piccole mosse ottenere grandi risultati.